Sì, bella e soprattutto che comprende tutto l'interesse dei commercianti di tutta la città. Devo dire che anche per questa sesta abbiamo visto tantissimi commercianti che come ci avvicinavamo alle vetrine sapevano già esattamente di che cosa stessimo facendo. Questa è una soddisfazione perché significa che coloro i quali sono preposti non soltanto a vendere ma soprattutto a abbellire la città, stanno ricominciando a rimboccarsi le maniche e insieme con noi, insieme con le istituzioni, insieme con le associazioni come noi e come la Prologo di Catanzaro lavorano perché la città diventi sempre più bella, sempre più appetibile. Noi quest'anno abbiamo avuto diverse occasioni, diverse fotografie che abbiamo fatto come direttivo poi abbiamo dovuto scegliere le solite 11 e abbiamo scelto anche tre premi speciali. I tre premi speciali sono veramente belli perché uno è un'intera palazzina che è Villa Betania che è stata tornata ad albero di Natale, l'altro è un albero di Natale grandissimo in un quartiere molto buio che è quello giù alla fine di via Lucrezia della Valle e questo albero che ha fatto la Hyundai ha finalmente fatto vedere una luce che usciva fuori dall'intero quartiere e poi permettetemi che il terzo, quello più bello diciamo, è stato il lavoro che è stato fatto di ornamento alla statua del cavatore. Il comune questa volta si è veramente distinto non soltanto per il quartiere o per il corso o per la luce ma per aver fatto qualcosa di particolare. se voi noterete, nella fotografia che è stata fatta da parte nostra del cavatore c'è davanti a noi, nella fotografia, quindi nella targa che noi consegneremo ci sono delle persone che stanno fotografando, che non sono della Prologo ma che venivano a Catanzaro per fotografare il cavatore. Allora questo significa che cominciamo ad entrare in quello che è l'ordine giusto che è quello del tentare di fare sempre qualche cosa di bello a che la gente possa venire. Io non voglio prendere esempio sempre per forza Salerno, però Salerno attraverso le luci ha portato centinaia e migliaia di persone dal mese di novembre fino al mese di gennaio ad andare a vedere queste famose luminarie, sono andato anch'io, ho portato anch'io la mia famiglia che sono bellissime. È una novità, è un qualche cosa che poi alla fine per il territorio diventa veramente un appeal che mette nelle condizioni del territorio di avere a che fare con tantissima gente che altrimenti non verrebbe a visitare. Allora continuiamo, questa è la sesta edizione, le prossime edizioni potranno essere anche una idea diversa come quella che hanno fatto a Carolei. La Prologo di Carolei cosa fa? Non soltanto ha fatto il discorso con le vetrine ma l'ha fatto anche con i balconi, l'ha fatto anche con i quartieri. E allora oggi che insieme con noi noi vogliamo ringraziare anche Caroleo perché siamo stati insieme, io ho fatto da giudice per quelle che sono state le foto che sono state fatte anche nel loro territorio e la stessa identica cosa nascerà in futuro questo gemellaggio tra tutte le Prologo che hanno la stessa idea, cioè quella di far emergere specialmente nel periodo di Natale le cose belle della propria città.